Benvenuti sulla cima della vetta lancia, hanno bannato Regi Alecchi, lo sapevamo tutti, questo qua era Tera Ground, ma adesso può tornare ad essere Tera Flying, perché Regi Alecchi è stato bannato, questo coso qua, vedete? Lo sapevano tutti che sarebbe stato bannato, solo Emo aveva dei dubbi, perché non capisce un cazzo, solo Emo poteva pensare che Regi Alecchi non sarebbe stato bannato, eh sì, e pensava proprio quello, e invece guarda è stato bannato nell'arco di mezza giornata, assurdo, un Pokémon sbagliato, per fortuna ce ne siamo liberati. Ursa Luna Solvest in questo team era molto simpatico, tuttavia un motivo in meno per giocarlo a Solvest è non Playmorb, cioè dai ragazzi fatevi intelligenti e smetteteli di giocare questi set non ortodossi, e basta, Regi Alecchi bannato.